portano i fotografi vai lele dai dai recupera adesso andiamo giù passo sotto 4 questi ti filmando? non so non so non so non so andate a prendermi vai Fabio vai lascialo lì e vai dai Marco dai Marco Ricci attaccati adesso via via adesso via vai via vai Luca vai ecco l'arrivo di Iorio che vince anche questa prova secondo Colombo e terzo Branca Leone attenzione sempre rimanere fuori dalla sede stradale i G4 i G4 alla partenza di venire qui nella zona poco prima delle transenne per poi allinearsi ecco ecco la prima ragazza ecco concluse concludono la gara anche questi concorrenti ecco